Subito in mano a Tempestini, poi lenti, il pick and roll rimane lì a metà strada, ha giocato bene e si chiude la sbalda del telepass. Poi si avvicina a Canestro, grande palla dentro, la no fly zone alzata ancora una volta da attarditi. Trocker scippa la palla a Castellino che è stoppata, che è stoppata. L'impronta è rimasta come la Sindone sul tabellone con Castellino che fa di tutto per negargli la ricezione, arriva da dietro Cravero, Tempestini proprio contro Antonietti, taglia la stoppata, respinto con perdite Tempestini.